benvenuti in diretta ragazzi qui alessandro da londra e oggi parliamo vi voglio parlare come vedete sono abbastanza in maglietta oggi non sono non sono in uniforme da da imprenditore da investitore anche se poi insomma l'imprenditore non è detto che debba andare in camicia comunque oggi parliamo del perché le aste non sono un acquisto facile ditemi da dove mi iscrivete da dove mi guardate anzi condividete il video che adesso parliamo di questo argomento molto importante che vi farà fare un salto di qualità rispetto a dove siete adesso allora aspettiamo i primi che arrivi arrivano ciao a tutti intanto ditemi se mi sentite datemi questa questa indicazione vediamo se così vedete bene perché perché ho collegato il microfono a un telefono diverso da quello dal quale di solito si fanno si fanno le live faccio le live quindi ditemi se mi sentite innanzitutto allora tanto io tanto che arrivati io scrivo una cosa ciao vito mi sentite mi sentite bene ragazzi perché sto utilizzando un altro telefono e come vedete ho collegato un microfono però ho paura che non si sente lasciate un like innanzitutto ditemi da dove mi state guardando così come facciamo già ogni volta e ditemi se mi sentite bene perfetto ok quindi mi sentite bene allora ragazzi condividete ditemi da dove mi scrivi mi guardate perché oggi parliamo vi spiego vi spiego un po' e così cerchiamo di sfatare un po' qualche quello che c'è un po' in giro su su qualche sulla maggior parte dei blog o addirittura dei video su youtube che adesso stanno uscendo di moda che tutti ti insegnano a partecipare alle aste quindi come è giusto che sia quando sono partito non c'era niente però vabbè andiamo avanti però vi spiego che cosa non sono le aste oggi e perché non sono un acquisto facile quindi non è per tutti ve lo dico già quindi se avete il dubbio di capire se è un settore che potete utilizzare per voi o che possono utilizzare tutti sappiate che non è per tutti provincia di badove vito dimmi dove perché io sono 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 della provincia di bari originale adesso sono a londra però sono dalla provincia di bari allora 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 un attimo ragazzi che adesso iniziamo subito vediamo se arriviamo almeno qualcuno in più se vi va a condividete questo video in modo tale che facebook capisce che siete interessati all'argomento e ogni volta vi manda poi una notifica oh bisceglie bellissimo allora vito devi sapere una cosa che io ho tanti gran parte della mia famiglia bisceglie quindi sarò a bisceglie sarò sarò allora io torno in italia devo andare prima ora vado a barcellona poi torno in italia ma poi vado subito a treviso poi ritorno dovrei essere dovrei essere da quelle parti credo verso metà ottobre fine ottobre perché adesso tra spagna treviso dove andrò sono stato invitato da alla casa di un grosso imprenditore del veneto che vuole parlare di affari quindi ragazzi è il più grosso imprenditore del veneto cioè ha un'azienda roba grossa quindi tornerò di là da lì e poi poi tornerò giù a bari quindi farò anche visita a bisceglie perché ripeto lì ho tanti ho tanti parenti quindi vado un po' a fare questa tra virgolette questa vacanza allora ragazzi le aste non sono un acquisto facile non sono un acquisto facile ditemi da dove mi iscrivete da dove mi guardate anzi gli altri che si stanno aggiungendo adesso così aggiungiamo un po' di rich a questo video poi ricordatevi di attivare la campanellina di facebook in alto sulla vostra destra destra da questa parte in modo tale che la prossima volta avete le notifiche subito in diretta va bene quindi ditemi da dove mi state guardando vi tocchi e gli altri così parliamo subito perché vi spiego vi spiego perché le aste non sono una cosa facile non è un settore per tutti ragazzi mettetevelo bene in testa che non è un settore per tutti e chi pensa che invece sia un settore adatto a tutti dove vai sul sito cerchi l'asta che ti piace fai clic e acquisti o fai la richiesta la richiestina e vai a farla vedere al curatore fallimentare e poi vi da il bene non è quella roba là non è quella roba ragazzi giusto un attimo così ok quindi perché ci sono dovete sapere che ci sono visto che adesso è già arrivata altra gente ci sono dei dei calcoli correlati che dovete conoscere altrimenti è un vero problema cioè allora io ero in coaching la scorsa settimana con una persona che ha fatto in passato la prova a partecipare ad un'asta giudiziaria e senza andare troppo lontano cioè senza andare su sugli esempi in questo momento perché capisco che c'è molta gente che parte da zero tanti non conoscono questo settore però è importante che riesca a farvi capire il concetto e non voglio farvi esempi troppo difficili perché nelle mie coaching private ossia imprenditori persone i liberi professionisti che acquistano gli immobili però anche persone che acquistano beni mobiliari quindi io vi voglio fare adesso un esempio di una persona un imprenditore che acquista generalmente beni mobiliari che cosa è successo che non ha calcolato allora lui che fa compra e vende attrezzature tra queste attrezzature c'erano ultimamente dei beni mobiliari parlando di arredamenti quello che lui adesso ha imparato a fare è un conto ma quello che lui prima non aveva imparato a fare adesso nelle coaching vediamo un attimo se vi vedo tutti ok nelle coaching sta imparando a fare e che e che poi ha imparato a fare è quello di evitare un errore che in passato ha fatto cioè di non calcolare i costi correlati ad un'asta ad un acquisto e ora vi dico delle cose che poi vedrete inizierete a sentire in giro e si si vanteranno che sono stati i primi a dirlo comunque va bene i costi correlati ad esempio l'errore di questo di questo mio studente che poi è un imprenditore è uno studente che fa le coaching con me che cosa ha fatto in passato ha acquistato un lotto di attrezzature ma non aveva messo in preventivo quelli che poi erano i costi per il trasporto e i tempi per andare a ritirare quel bene e tutti i costi correlati quindi se non calcoli il correlato è un vero problema ragazzi cioè se non calcolate questo è un vero problema quindi questa è una parte molto importante sì che rientra rientra nel nel business plan che dovete fare prima di dover partecipare io ve lo ripeto ve lo ripeto non è un mercatino delusato non è una cosa facile non è per tutti cioè se non avete la mente imprenditoriale per partecipare alle aste giudiziarie perché ricordatevelo che è una leva finanziaria cioè le aste giudiziarie sono uno strumento che vi può permettere di con poco di avere uno slancio per guadagnare dei soldi quindi questa è la sostanza poi c'è chi dice vabbè io sono faccio le aste perché voglio aiutare le persone ok ben venga ma non lo fai per l'opera per lo spirito santo quindi sicuramente lo fai per guadagnarci dei soldi si può fare aiutando le persone anche ma non lo si fa giusto perché non si ha niente da fare cioè questo volevo dire poi ah volevo rispondere a una persona che mi ha scritto un post sotto sotto ho fatto un un ads che una campagna di facebook che c'era che c'è ancora adesso mi dice vabbè se ecco perché spieghi come si partecipa alle aste se cioè perché non sfrutti tu questo settore non ti tieni le cose per te anziché spiegarle agli altri allora innanzitutto spiego le cose perché mi piace che oltre a mi piace innanzitutto farlo quindi mi piace spiegare spiegare un po' quello che è stato che è la mia esperienza sul campo che sono stati i miei errori in passato e domani se ci saranno degli errori mi piace che ve li spiego così possiate evitarli poi se voi vi scrivete ad aste giudiziare per prescelti che adesso vi spiego per chi non lo sa per chi non lo sapesse che cos'è è il videocorso ha questo nome perché in seguito ultimamente a una chiacchierata con un amico che in maniera molto curiosa è uscito questo nome beh in realtà siamo dei prescelti perché non tutti conoscono questo settore benissimo quindi adesso ho detto lo chiamo così il videocorso esiste già da un anno il videocorso che tante persone tanti studenti sono all'interno però adesso ho voluto dargli questo nome provocatorio perché non è per tutti ecco questa è la sostanza che è un po' il titolo di questa diretta quindi innanzitutto mi piace spiegarle le cose e poi perché ci guadagno ci guadagno dal videocorso dalle coaching perché è facile in questo modo anche trovare gli investitori le persone mi contattano per degli investimenti per la partecipazione loro per avere dei consigli per le coaching insomma ragazzi tutte cose correlate che ovviamente se siete dell'imprenditore o delle persone sveglie sapete vi faccio degli esempi ah ok se acquisti per esempio aspettate un attimo ragazzi se acquisti degli attrezzi o delle auto che fai? cioè se tu ad esempio come quello che vi ho appena raccontato se voi ad esempio volete acquistare delle attrezzature o delle automobili quindi rimanendo in tema mobiliare lo sapete che dovete correlare dei costi cioè sapete che ci sono dei costi di trasferimento a parte tutti i costi delle spese che dovete mettere in preventivo nel business plan per quanto riguarda il delegato alla vendita per quanto riguarda se ci sono parliamo di immobili le ipoteche sopra insomma ci sono una serie di costi ok il trasferimento eccetera eccetera che anche nelle vendite mobiliari bisogna calcolare ma bisogna calcolare non solo questa tipologia di costi ma bisogna calcolare anche i costi correlati ad esempio se tu se voi decidete domani di comprare un'automobile dovete mettere in preventivo che quell'automobile deve essere spostata dovete mettere in preventivo uno dice si lo so ok però perché molte persone non lo calcolano e poi si trovano con delle spese aggiuntive e si trovano a fare un pessimo affare cioè il guadagno non c'è più perché si pensa inizialmente che il costo sia solamente partecipare il costo sia anche quello delle spese correlate fino a un certo punto cioè quelle che vengono descritte all'interno della perizia però poi non si calcolano tutte le altre spese ok quindi se l'automobile in questo caso nel caso dell'esempio se l'automobile ha bisogno di una manutenzione lo avete calcolato? se l'automobile necessita di dover essere spostata dal luogo in cui si trova entro che ne so dieci giorni avete calcolato il costo del trasporto soprattutto se non funziona l'automobile perché ragazzi ci sono aste dove tu trovi l'automobile che funziona in questo caso però ci sono le aste in cui tu trovi l'automobile che è scassata cioè che non funziona e te la fanno passare come un'automobile che funziona quindi dovete essere bravi a capire come comportarvi sia in fase di acquisto ma anche dopo è qui che c'è che è l'abilità che entra in gioco l'abilità dell'imprenditore quindi se pensate come molti pensano e vi fanno credere perché vi non lo so perché comunque vi fanno credere che le aste sono per tutti cioè è come andare su Amazon scegliere un paio di scarpe e acquistarlo non è così non è così dovete mettere in preventivo queste cose ora vi faccio un altro esempio per chi è entrato in aste giudiziare per prescelti che ha scaricato i tre video gratuiti sa benissimo che io in parte ho anche raccontato se non ricordo male ho raccontato una buona parte della mia prima esperienza all'asta che riguarda una cucina ora quello rientra in questa tipologia di errori nel videocorso io questo non l'ho detto non perché lo volevo nascondere ma perché non era necessario ve lo dico adesso e vi spiego che cosa vi voglio dire uno degli errori che io per la mia inesperienza tanti anni fa nel mio primo acquisto all'asta di questa famosa cucina che cosa è successo è che non avevo calcolato il costo del dello spostamento di questa cucina che doveva essere a carico mio cioè io inconsapevolmente sapevo che in qualche modo dovevo comprare questa cucina però l'inesperienza non lo so ragazzi una serie di cose adesso ci sono tanti fattori non avevo calcolato questa cosa qua la mia bravura non voglio vantarmi però vi voglio far capire perché è quello che dovete fare voi quello che dovete evitare di fare la mia fortuna anzi diciamo la mia fortuna ciao Gianluca la mia fortuna qual è stata che essendo che mi sono prima formato su me stesso avevo fatto già un percorso di crescita personale imprenditoriale eccetera eccetera ma non specifico ad un livello tale da potermi permettere di partecipare e fare ottimi affare le aste però avevo già imparato avevo fatto le prime consulenze eccetera eccetera ma non mi era stato detto questo dettaglio che io vi sto dicendo gratis gratis e non è un aspetto ragazzi non è un aspetto da niente perché molte persone acquistano mettono in preventivo i costi correlati a quelli che c'è quello che c'è nell'avviso di vendita o nella perizia eccetera eccetera però poi non calcolano queste cose ora vado al dunque ho utilizzato la testa la testa per fare in modo che la cucina io non dovessi spostarla cioè non dovesse essere un mio costo ma non l'avevo calcolato all'inizio questo l'ho calcolato dopo una volta che io mi sono aggiudicato il bene il delegato alla vendita mi fa bene questa cucina deve essere spostata in tot giorni che adesso non ricordo quanti giorni era ma non erano tanti c'erano credo dieci giorni due settimane ma neanche due settimane ok perfetto esco dall'aula del dallo studio del delegato e faccio ma io non ho calcolato una cosa e non mi è stato detto questo però cioè come faccio a spostare questa cucina cioè io adesso dovrei chiamare una un'azienda di trasloco e sobbarcarmi questo costo lo avevate pensato questo ragazzi quante persone non pensano a queste cose qua e non è solo con la cucina vale anche per l'auto vi dico il caro attrezzi caro attrezzi vi dico ci sono tanti esempi ora vi faccio anche l'esempio dell'immobile la testa mi ha detto ok aspetta allora penso un attimo come posso evitare questo problema perché adesso io sono immerso nelle sabbie mobili se io metto questo costo non ho guadagnato nulla vado bene se cioè mi va bene se vado a pareggio per fortuna ho trovato l'acquirente con con delle strategie che poi do anche all'interno del video corso quindi entrate nel video corso non andate cercando solo informazioni gratuite ragazzi che ho fatto ho venduto la cucina ancora prima di saldare il prezzo dell'asta e ho messo ho utilizzato questa tecnica per far sì che il costo se lo dovesse accollare direttamente l'acquirente ora se io non avessi pensato e non avessi trovato l'acquirente quindi non mi andava bene sotto questo aspetto dovevo sostenere un costo che probabilmente non mi avrebbe fatto guadagnare nulla poi mille mille euro in 48 ore sono uscite così utilizzando una leva poco più di 100 euro quindi ho acquistato un bene e guadagnato pulito mille euro in 48 ore perché assieme a questa tecnica sono state utilizzate le giuste strategie quindi fate molta attenzione a questi costi correlati poi ad esempio vi faccio ora l'esempio dell'acquisto dell'immobile invece se tu acquisti un immobile e non metti in preventivo i costi correlati ad esempio io lo do per scontato chi è nel videocorso in Aste Giudiziare per prescelti sa benissimo e ha tutto quello che serve durante una visita del bene che sia mobiliare o immobiliare su quelle che sono le stime da dover tenere in considerazione prima di partecipare all'asta quindi per prevenire tutti quelli che sono gli errori ancora prima di mettere un euro sul banco ok e anche se poi metti un euro sul banco se segui passo passo quello che ti insegno quando arrivi all'asta se hai impostato l'entry roof che adesso ti spiego per chi non lo sapesse vi spiego che cos'è evitate di perdere soldi ok ah questa parola è l'entry roof che non esiste non esiste ancora almeno che io sappia in questo momento non esiste ancora in Italia soprattutto spiegato nel mondo delle aste perché si tratta del tetto massimo che tu devi impostare prima di entrare in gioco vedrete che adesso inizieranno a a specificare e a spiegare l'entry roof cioè parleranno col termine entry roof i vari guru adesso che ci sono online va bene quindi andiamo avanti se tu acquisti un immobile hai calcolato anche il costo di uscita eventuale dell'inquilino che è all'interno che cosa ti serve per far uscire l'inquilino all'interno bisogna rivolgersi solamente alla forza pubblica no ragazzi non è solo forza pubblica ci sono delle strategie che non vi spiego qui anzi forse qualche video in passato mi è sfuggito però lo spiego all'interno del videocorso che ti permette di evitare la forza pubblica quindi di avere anche un buon rapporto con l'inquilino soprattutto se inizialmente non se ne vuole andare eccetera eccetera questo è uno dei costi che dovete calcolare cioè vi dico uno ve lo voglio dire così su due piedi perché sennò non capite poi o qualcuno di voi non capisce se tu devi chiamare il medico oppure il veterinario tu uno dice perché devo chiamare il medico o il veterinario sì perché se tu hai un inquilino all'interno che non ha il diritto di stare all'interno quindi avete fatto tutti i passi giusti ok e non ha il diritto di stare all'interno ma mentre voi state andando siete andati per siete andati con il delegato alla vendita per appropriarvi dell'immobile una volta che vi siete aggiudicati l'immobile passato del tempo eccetera eccetera avete seguito tutta la procedura secondo la legge andate lì e chi è all'interno per esempio del veterinario che vi ho detto un'altra un'altra strategia vi fa trovare degli animali vi fa trovare ad esempio queste cose qui sapete che voi nonostante vi siete aggiudicati l'immobile così come avviene nella vita normale a parte le aste ma vale anche per se mettete in affitto una casa eccetera eccetera sapete che se ci sono degli animali la legge protegge più gli animali che non voi e i costi ad esempio del veterinario li avete messi in preventivo perché il veterinario perché il veterinario deve fare una serie di indagini che vi spiego nel videocorso poi il medico chi vi dice che voi quando andate lì se non avete fatto quello che vi insegno nel videocorso non avete rispettato gli step e fate di testa vostra dice no vabbè io acquisto non voglio avere a che fare direttamente con chi è all'interno seguo l'iter normale se la vede il delegato mi lavo le mani buonanotte no ragazzi non è così perché poi quando andate passato tutto il periodo eccetera eccetera andate lì la persona dice oh no io sono a letto non posso uscire che cosa fate voi il medico lo avete calcolato lo avete calcolato nei costi cioè dovete calcolare questi costi intanto ciao ciao agli altri che si sono aggiunti ragazzi ditemi da dove mi state guardando ciao Gianluca ciao Vito calcolate questi costi ci sono tanti altri costi però partecipare all'asta non è per tutti se non avete la preparazione se non avete una mente imprenditoriali ragazzi non partecipate all'asta cioè io ve lo sconsiglio perché poi la gente dice ah vabbè ma le aste si perdono soldi alle aste le aste sono organizzate per farti uscire denaro per farti perdere dei soldi dietro c'è ci sono le organizzazioni criminali dietro c'è c'è già il complotto che non vuole che io mi aggiudico il bene eccetera eccetera no ragazzi non è così non è quella roba lì ragazzi non è così accade questo a quelle persone che non sanno che cosa stanno facendo sono andati in giro per mesi su internet tra i vari blog tra i vari tra i vari video eccetera eccetera guardare sbirciare cercare di capire hanno letto un libro pensano di aver capito tutto casomai il mio libro se volete andate su amazon aste giudiziare per chi parte da zero best seller amazon acquistatelo così ah intanto sta avendo un ottimo successo sono passati quasi dieci mesi io lanciai questo libro è stato il mio primo libro dicembre scorso devo dire che ogni settimana ogni settimana ci sono sempre 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 acquisti tra i book e i libri cartaci grazie innanzitutto a tutti quindi se partite da zero partite da lì o diventati direttamente prescelti nel video corso quindi ok quindi ragazzi occhio alle cose ai movimenti che fate e come interagite con le aste poi ricordatevi che non è un mercatino dell'usato perché non è quella cosa lì che tu acquisti online ti basta un click vai sul sito ti basta un click la partecipazione adesso c'è la partecipazione online all'asta giudiziare tutti pensano oh è più facile adesso diventerò ricco con le aste mi passate il termine ragazzi che è una grande puttanata allora è sicuramente un'agevolazione il fatto che tu da casa cioè io adesso di qua entro nel sito posso partecipare ad un'asta giudiziare ma non lo faccio perché prima c'è tutto un lavoro prima di fare l'offerta c'è tutto un lavoro dietro non solo nei calcoli dei costi non solo dei calcoli di quello che può venire dopo non solo nella stesura del business plan ma anche nel rapporto che eventualmente voi dovete instaurare con la persona che nel caso di acquisto di immobile c'è all'interno e con tutto quello che c'è intorno va bene ragazzi quindi ci sono una serie di cose che se voi cioè voi non voi non immaginate molte persone non hanno idea che non è quella cosa lì cioè non è un click e voi mi sono aggiudicato il bene no no ora vi dico una cosa in più vi faccio un altro esempio giusto per rimanere in tema perché sono sono ispirato un attimo soltanto così bevo un po' di acqua perché vi faccio un esempio di un'asta telematica che all'inizio io avevo sempre subito dopo quella cucina avevo vinto però era in contemporanea quindi io l'errore l'ho fatto praticamente nello stesso modo ok e ora vi spiego allora ragazzi mi dite da dove è che mi state guardando per favore cioè io sono a Londra qui vi sto mettendo a disposizione delle informazioni che dovreste pagarmi solo per la coaching ok Vito ha detto da Biceglie gli altri gli altri siete collegati avete l'informazione almeno dite da dove state guardando se siete dentro siete dentro casa mia ditemi da dove mi state guardando almeno no si vede meglio così vi faccio l'esempio di quando acquistai degli orologi su astetelematiche.it su astetelematiche.it ci sono addirittura anche i Rolex vabbè ci sono anche sugli altri portali per le altre partecipazioni io acquistai una serie di orologi non Rolex di un costo minore però erano tutti firmati Dolce Gabbana insomma tutte queste marche qua io acquistai un set di orologi convinto di aver fatto un ottimo affare avevo avevo fatto tutta tutta la procedura del business plan c'è tutto qua ok avevo stabilito il mio entry roof partecipo e che faccio non calcolo i costi di spedizione quando mi era stato detto che i costi di spedizione non erano inclusi mi volevo dare una una legnata in testa perché fortunatamente seguendo gli step del business plan in quel caso sono andato a pareggio ragazzi poi ho fatto la spedizione non era molto la spedizione però in confronto a tutto correlato cioè io tra spedizione tutto il lavoro che c'è stato dopo andare a rivendola eccetera eccetera non dico che sono andato in pari ma quasi quindi non è stato un grande affare perché gli affari si fanno quando tu hai un buon margine almeno secondo il mio punto di vista ed è quello che insegno agli studenti diventate prescelti entrati in accademia che avete tutto quello che vi serve anche se partite da zero anche se siete già esperti perché molti dicono io ho partecipato all'asta però quindi capisco tutto so tutto ok quanti soldi fai durante la settimana cioè a quante aste partecipi e vinci fammi degli esempi quindi non è un mercatino delusato dovete imparare a leggere tra le righe dei documenti cioè devi calcolare il resto dei costi correlati e questo è molto importante perché se non lo fate è un problema è un problema ah vi volevo dare una notizia intanto che allora io non vado avanti finché non mi dite da dove mi state scrivendo perché non è giusto che voi sfruttate informazioni gratis dentro casa e poi non mi dite neanche da dove mi state guardando ditemi da dove mi guardate fate un like eccetera eccetera poi vado avanti nel frattempo vi dico che a breve apriamo il club che non sarà per tutti eh ve lo dico già ci sono già delle delle candidature addirittura di una casalinga non so se mi stai guardando in questo momento se sei nella nella pagina eccetera eccetera non è una mia studente della del diaste giudiziare per prescelti però addirittura una casalinga motivatissima ha compilato il form eh per entrare ragazzi è su selezione non perché è casalinga probabilmente io la faccio anche entrare ha tanta voglia di imparare vuole vuole investire ha del capitale da investire eccetera eccetera imparerà tutto quello che serve perché tanto in questo club sono ammessi sia chi parte da zero che chi è esperto perché all'interno troverete del materiale che fuori scordatevelo di trovare cioè entrate in un club esclusivo dove avete se non avete tempo se non avete tempo risorse economiche ed energie risorse economiche nel senso per pagare qualcuno che lo faccia per voi quindi non avete tempo risorse economiche ed energie per poter cercare documentarvi e rimanere aggiornati su questo settore investimenti in aste eccetera eccetera mobiliari immobiliari il club è quello che fa per voi non sarà per tutti perché ho inserito una soglia di pagamento qualcuno di voi sa benissimo che c'è il gruppo facebook chiuso ma rispondendo a delle domande puoi accedere ma è gratis in sostanza alla fine qua si paga quindi il club si paga dentro ci saranno dei professionisti delle dirette esclusive c'è ragazzi tanta roba quindi qualcosa di esclusivo quindi a breve lo apriamo ma mi state scrivendo da dove mi state guardando perché io non vi vedo o è un problema del telefono o io non vi vedo allora ok ditemi da dove mi guardate ragazzi dai forza mettete un like o condividete il video ok quindi occhio a quello che fate perché il problema è che si pensa che basti scegliere e acquistare non è così cioè non è così perché altrimenti tutti quanti vanno sul sito guardano quello che gli piace tipo ebay tipo amazon scelgono e acquistano ok e non è solo una questione di saper preparare la documentazione non è così non è solo quello ad esempio è molto importante avere l'entry roof solo allora inizia il bello cioè ragazzi se non avete l'entry roof che per chi non lo sapesse è il tetto massimo di spesa che vi siete prestabiliti prima di andare all'asta prima di entrare in gioco all'asta cioè viene dopo una serie dopo un lavoro in mani che c'è dietro ok quindi per questo non è clicca e partecipa metti la caparra e partecipa ok se non avete l'entry roof vedete che adesso l'entry roof entrerà nel vocabolario dei tutologi dei guru che ci sono online sulle aste giudiziarie in questo momento ancora nessuno l'ha detto quindi ricordatevi che Alessandro l'ha detto ok poi diteglielo a queste persone ah tu hai copiato da Alessandro no sto scherzando ragazzi a me piace essere abbastanza non dico non dico leggero perché io adesso vi sto spiegando insomma non stiamo facendo una coaching vi sto dando delle informazioni gratis quindi mi piace un po' parlare cioè è una chiacchierata questa non è non è lavoro che lavoro è ben altro ah complimenti complimenti ai nuovi prescelti complimenti noi prescelti di questa settimana ce ne sono due due new entry in asta giudiziarie per prescelti poi vi vi allego il link all'interno del dei commenti così se non vi siete guardati tre video se non avete guardato i tre video scusate ve li guardate e poi entrate ok così anziché avere solo informazioni gratis ma limitanti avete quello che realmente vi serve altrimenti chiedetevi che cosa sto facendo cioè che cosa state facendo state guadagnando state partecipando alle aste cioè fatevi un'autoanalisi un po' ok non solo cose gratis ragazzi anche perché altrimenti poi 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 importante una importante capire su cosa si basa l'entry roof ok cioè quali sono tutti i passaggi importanti per avere un entry roof già ottimale e prestabilito perché l'asta giudiziaria non inizia quando voi cercate ma l'asta giudiziaria inizia quando voi avete messo i soldi e avete vinto è lì che inizia l'asta giudiziaria secondo me il lavoro che c'è dietro lo dovete saper fare perché altrimenti non dovete nemmeno partecipare ma l'asta giudiziaria inizia allora perché solo allora voi veramente siete entrati siete entrati in gioco ok quindi dovete capire qual è l'entry roof massimo che dovete avere e dovete capire come avere questo entry roof se non avete questo ragazzi è un problema cioè è un problema non partecipate è un problema non andate a tentoni non andate a tentoni ah parlavo l'altro giorno con una persona che mi ha chiesto aiuto abbiamo fatto una coaching ho pagato la coaching eccetera eccetera mi fa in passato ho acquistato un immobile e non avevo calcolato il fatto che dei livelli del piano insomma tutte queste cose qui e ho calcolato un entry roof sbagliato rispetto a quello che poi era la prospettiva della vendita e dei costi successivi che poi si è trovato quindi in realtà l'entry roof cioè il tetto massimo per chi non ha ancora capito che cosa è viene stabilito non secondo la media secondo i parametri di rivendita secondo quelle fesserie che vi dicono ma viene calcolato secondo una serie di fattori che stanno ben oltre questo cioè questi sono inclusi ma ce ne sono ben oltre ok allora ragazzi se avete delle domande fatemele così io non parlo da solo ciao a tutti quelli che si collegano che si stanno collegando e quelli che mi guardano un po' in differita fatemi le domande e se non vi volete perdere la prossima differita cioè la prossima diretta non guardarmi in differita attivate il campanello delle notifiche così la prossima volta vi arriva la notifica da facebook ok fatemi le domande vi do il resto a disposizione qualche secondo dai ragazzi dai fatemi delle domande se ce le avete non vi vergognate cioè qualsiasi domanda sia cioè anche se state partendo adesso ok quindi occhio occhio come a quello che fate e a come vi comportate e occhio cercate di capire se effettivamente è per voi questo settore perché qua si tratta di investimenti ragazzi qua si tratta di imprenditoria cioè se non attivate la testolina dell'imprenditore non sta in piedi il gioco cioè il gioco non sta in piedi ok bene ragazzi se non avete ah ecco siccome si sta scaricando la batteria questo è un telefono che non è quello che uso di solito ragazzi diventate prescelti ci vediamo al prossimo live attivate il campanellino delle notifiche mettetemi un like poi lasciatemi dei commenti se volete lasciarli visto che le domande non riesco a vederle purtroppo e diventate prescelti ok ci vediamo la settimana prossima ciao ragazzi poi vi do qualche novità eventualmente se ci sono ah la prossima settimana la voglio inserire nella diretta qualche 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 news settimanale dal mondo degli investimenti delle aste sempre riguardante le aste va bene bene ciao ragazzi buon fine settimana